musica ragazze che bello non vedevo l'ora di fare questo pigiama ragazzi però io un po' di mezzo bella bella avete sentito che ho visto la prof baciarsi con un uomo 20 anni più giovane di lei assurda assurda bella bella ragazze ho visto posso fare in macchina con un uomo che è la macchina della bidella si è fermata in mezzo all'altra bella 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 sofia la capitale dell'india e anche te hai studiato oggi 4 stefano la capitale della libia tripoli bravo 10 nicolas nicolas la capitale dell'inghilterra london bravo alice abbiamo detto 4 e anche sofia perché non avete risposto la capitale dell'inghilterra e e in l'inghilterra e il progetto il il ridurre il e l'inghilterra il progetto è il non Grazie a tutti. Silenzio ragazzi! Oggi, come avevo detto la settimana scorsa, vi interrogerò. Allora, qualche volontario? No? Bene, allora chiamo io. Gabriel, in che data comincia la rivoluzione americana? Complimenti, vedo che hai studiato. Beh, ti prendi un bel 4 per oggi. Matteo, ti chiedo sempre una data, ma la data dell'inizio della rivoluzione francese. Bene, vedo che avete studiato tutti, complimenti. 4 anche a te, Matteo. Vediamo Francesca, tu sai invece la data dell'inizio della rivoluzione francese? 14 luglio 1789. Brava, 10. Martina, tu mi diresti l'inizio della rivoluzione americana? Sì, 1776. Bravissima, pure te un 10. Le buttite e mi fa male. Inziate gli occhi. Giù, 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 giù. No, giù, no, giù la bottiglia. Ah sì? Togli la mano. Vai. Guarda, lei meca, io non ci sono. Guarda, guarda, è per terra. Mmm, oh, buono. 3, 2, 1, azione. Ragazzi, tra io un po' di mangiura. 3, 2, 1, gridate. La gridate è senza oltre. Bisogna fare. 2, 1, via. Wow! No, 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 no.